Scanno, lo scanno! C'è il Lamo azziccato! Attendo alle mani! C'è il Lamo azziccato! Spiegatevi la situazione! E' da dove? E' da dove? Lamo prega! Ce l'ha azziccato! Non ce l'ha azziccato? No, no, l'ha azziccato! Bisogna amici pescatori che lasciano le porcherie! Bravo! L'ha capito, l'ha capito che gli stanno vedendo bene! Ma forse gli piace anche! Lo sto tenendo dal collo ragazzi! Lo sto tenendo dal collo io! Aspetta, ora questo lo sbrugliamo! Aspetta, fermo tu! Aspetta! Aspetta! Cosa hai ingattiato? Non c'è un malattito! Hai trovato? Delle cronaca! Flurgo mazza! E con la sua precisione! Appena preso in mano! Beh, ma la niente ti fa! La basta che glielo tagli! E subito, subito, subito una traghettomia! Guarda! E che altro? L'altro scenato del lamo! Ma ce la fa! Fermo, fermo! Lamo Mazzino! Fermo ragazzo! Io sto cercando l'amo! Fermo ragazzo! Lasciaglielo l'amo! No, proprio la lascia! Lo che vuoi fare? La lascia! La lascia! La videoconferenza! Salve, state assistendo all'intervento? Fermo! Da parte del chirurgo Mazza! Io ora l'ho visto! E della sua assistente! E della sua assistente! Scolvienti, Marta! Mettiamo lì questo qua! Fammi qua! Ci facciamo un rompito? No! Stiamo cercando di chiudere il plecco! Facciamo un rompito? No, ma se ne è morto! Stiamo perdendo! Stiamo perdendo! Quanto ci ha perso? Quanto ci ha perso? Io non lo posso portare! Se andammo come si fa? Io ti vorrei che un mestolo si fa male! No! Io non mi faccio male! Non mi faccio male! Lei non lo posso portare! Ah, ce l'hai in bocca? Sì! No! Non la lascia! C'è solo il ferrisco! C'è spostato il coltello! Il ferrisco solo fa! No! 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 Tira! No! Ok! 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 Ma stop! ITE BONE BLEGNA! Fermo! Fermo! La colazione è sempre buita! C'è un certo di giri! Sì! Mmm! Qua è la stampa Wing of theorientation! Io spero che non si rimane traumatizzata di nuovo! Sì! E' un po' di scoccia, ma secondo me non glielo possiamo togliere. Se se l'è calato dobbiamo semplicemente tagliarli. No no, qua, 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 qua. Ok, fermo un attimo. Aspetta, fai. Aspetta, guardiamo. Vado? No, ferma, prometti. Ma non è, aspetta. Se tu lo esci e lo tagli, lo vissi avanti e lo tagli. Bravo, hai ragione Ciccio, hai ragione Pippo. Aspetta, ti tengo qua, vai. Ok, andate. Buona. Avanti, buttiamola via. Allora, un po' che sarà un po' con stress, bello. Andate. Andate. Buona, buona, buona. Buona, buona. Buona. Buona ragione. Buona ragione. Buona ragione. Grazie. Ah, un messaggio per i pescatori che lasciano i nami? Oltreppo c'è tanta inciviltà. Se fossero solo gli nami che li lasciassero. Marta, dillo che l'amo era il tuo, dai. Grazie Marta Lina, amico. Ma non è spero così che avevi spezzato il becco, spero di no. Grazie a lui, no. Mi ha spezzato il becco? No, 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 no.